Signora, le ho detto che non mi deve chiamare ragazzo, ma Coca-Cola Man! No, non ti chiamerò mai così! Allora, non mi lascia altra scelta! Polletti, se volete vedere che cosa farò, cliccate mi piace fra tre... Due... Uno... Scripiti Top Toilet! Ehi, ma dove è finita? Ah ah ah, sono qui, topo di fogna! Volo dello scogliattolo! Volo cosa? Ma che diamine, lasciami andare, lasciami andare! Sembra che io vinca di nuovo! Mi scusi, questo è il centro adozioni? Siamo qui per adottare il bambino più forte! Cosa? Sì, per favore, mi dica chi è! Ah ah ah, toglietemi questo coso di dosso! Toglietemelo! Anzi, prenderò lui! Ehi, grazie mille! Ora andiamo, perché noi da oggi siamo l'anime Hero Family! E questo chi è, papà? Lui, è il tuo nuovo fratellino! Il tuo nuovo fratellino? Hero Family! Tutto molto bello, tutto molto bello! Ma io dovrei tornare alla mia casa! Ma perché vuoi andartene? Siamo la famiglia di eroi più bella del mondo! E poi abbiamo bisogno che tu distrugga tre anime cattivi! Oh sì 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 sì, davvero malvagi! Ma voi siete pazzi! Che cosa dovrei fare io? Sono soltanto un ragazzino! Ti prometto che per te... Faremo qualsiasi cosa! Aspetta, hai detto qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa al mondo! Beh, una cosa ci sarebbe! Cosa? Faremo quello che desideri! Voglio che voi cacciate via la signora del centro adozioni! Perché mi dice sempre che sono un topo! La dovete mandare nello spazio! Ma wow, è semplicissimo! Wow, ma è un affarone! Mmm, forse hanno ragione, avrei dovuto chiedergli di più! Ma insomma, che cosa stiamo aspettando? Andiamo a distruggere questi malvagi cattivi! Ehi papà, tu hai la tecnica della volpe a nove gote, giusto? Perché non lo affronti tu e gli dine un bel pugno! Sono sicuro che tu vincerai! No, io ho paura! Che? Tu hai paura di lui? Il principe Vegeta contro di te, Polletto! Em, ascolti, signor maestoso principe Vegeta! I miei genitori ti vogliono fuori da questa città! Potresti gentilmente andartene? Mai! Io sono il personaggio anime più potente di tutta Brookhaven! Em, questo non lo so! Hai visto mio padre quanto è forte? Oh mio Dio Polletti, è così imbarazzante! Combatti con me, ho voglia di fare a botte! Oh sì? Direi di fare un patto! Quale patto? Se vinci, ammetteremo che sei il più potente! Ma se vinciamo noi, ammetteremo che siamo i più potenti e te ne andrai per sempre da Brookhaven! Andata! Chi fa saltare il maggior numero di macchine, vince! Guarda qua! Suprema lievitazione del pane! Oh mio Dio! Questo ha alzato la macchina con la telepatia! Ah sì? Pensi di essere così forte? Guarda! Guarda che cosa faccio io! La mia povera mano! Sei una lisca di pesce! Un lanciatore di coriandoli! Oddio Polletta! Che cosa facciamo? Sta vincendo lui! È troppo forte! Fate qualcosa anche voi! Che cavolo! No, io no! Ho paura! Polletti! Penso di avere un'idea! Vieni Polletta! Non farò sconfiggermi da te, Vegeta! Voglio che la signora del centro adozioni prenda una lezione! Ha vinto! Me ne vado, Uffi! Ok Polletti, il prossimo cattivo è uno dei personaggi più cattivi in circolazione! Oh mio Dio Polletti! Sono terrorizzato! È Jessie! Jessie? Jessie chi? Jessie McCartney? No! Io! Jessie del Team Rocket! Oh mio Dio! Jessie del Team Rocket! Lei è davvero cattiva! Facciamo un patto! Se tu vinci, io andrò via da Brookhaven! Mentre se vinco io, sarai tu ad andare via da Brookhaven! Per sempre! Per sempre! Che la gara abbia inizio! Vincerà chi arriverà prima al traguardo! Oh mio Dio, vai! Siamo partiti bene! Oh no, ci sta risuperando! Oh mio Dio! Jessie, Jessie è davvero veloce! Questa è la sua sfida! Ok! Sta girando, sta girando! Dobbiamo seguirla! Ci sta dando una pista! No! Dobbiamo fare qualcosa! Jessie torna qui! Torna qui! Oh no! Sta prendendo la scorciatoia! Dove vuole andare? Vuole arrivare prima alla medaglia! No, 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 no! Non esiste! Non esiste! Dobbiamo arrivarci prima noi! Dobbiamo seguirla! Sta imbrogliando! Jessie! Non vale! Torna indietro! Ah ah ah! Vincerò questa gara! Dove vuole andare? Vuole andare verso il lago! Sta andando velocissima! Poi intanto cerca di speronarci! Ma è davvero cattiva! È un imbrogliona, Jessie! È proprio Jessie del Team Rocket! Oh! È scesa dall'auto! Dove sta andando? Sta andando a prendere la medaglia! È entrata nel lago! Jessie! Torna qui! Dove sei? Eccola! La vedo! È lì giù! Oh no! Sta per prendere il trofeo! Dove andare subito! Non vale! Ha barato! Jessie! Vieni qui! Ora ti faccio vedere la mia mossa speciale! Ah! Ora il trofeo è mio! Volevi barare ma alla fine ho vinto io! Sììì! Ah ah ah! La città è mia! Prendi questo! Oh mio Dio! Hai beccato la mia sorellina! La bolletta ninja! Siamo qui per fermarti! Ah 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 ah! Siete solo dei ragazzini! Ah sì! Questo è quello che pensi tu! Allora non hai visto la nostra fusione! Ma sei sicuro di volerlo fare fratellino? Sì! Uniamo le nostre forze! È troppo potente per noi! Fusione! Ah ah ah! Mi sento fortissimo! Pensi di potermi battere eh? Prendi questo! Ehi! Ma dove è andato? Onda! Energeti! È stato troppo facile! Me ne andrò da Brookhaven! Non tornerò mai più! Wow! Li abbiamo distrutti! Siamo stati bravissimi! Ma se abbiamo fatto tutto noi! Ora possiamo realizzare il tuo desiderio! Signora! Mia moglie deve dirle una cosa! Prenda questo! No! Oh sì! Ciao ciao! Va benissimo Polletti! Questa è la famiglia di anime che adotta il polletto ninja! Se vi è piaciuto questo video lasciate like e iscrivetevi al canale per venire a giocare con noi in live! Noi ci vediamo alla prossima avventura su Brookhaven di Roblox! Noi ci vediamo alla prossima!